Sarà Paolo Ruffini il personaggio PIC 2023 che riceverà come da tradizione l'equivalente del proprio peso in prodotti del territorio. La festa dedicata al peperoncino in tutte le sue derivazioni torna nel centro storico di Camaiore sabato 7 e domenica 8 con un programma ricco di iniziative tra show cooking, mostra mercato, esposizioni fotografiche e conferenze a tema. Ospite d'onore di questa edizione sarà Enrico Delfinger, lo chef della Casa Reale inglese, dichiarato miglior chef del mondo nel 2008 che si cimenterà tra i fornelli sabato mattina mentre nel pomeriggio verrà nominato ambasciatore del peperoncino nel mondo. Molti gli ospiti di questa rassegna, tra cui il ritorno di Cristiano Tomei che venne incoronato personaggio PIC lo scorso anno e che tornerà con un nuovo show cooking domenica a mezzogiorno. Durante tutta la due giorni poi il Teatro dell'Olivo ospiterà la mostra fotografica collettiva a cura dell'Accademia Italiana del Peperoncino dal titolo Risate Piccanti. In più, tanti ristoranti della zona offriranno solo per il weekend un piatto ispirato ai gusti piccanti per celebrare ormai un dissolubile legame tra Camaiore e il mondo del peperoncino.